Siamo a Rò, ospedale di Passirana, un sopralluogo importante. Diventerà l'hub per i malati cronici in supporto agli ospedali di Rò e Garbagnate. Riaprirà la riabilitazione per i malati mielolesi non gravi. Bravi ai manager della SST Rodense. Siamo qui per testimoniare la volontà di continuare a investire su Passirana. Più servizi per i cittadini in sanità. Grazie.